Nelle scorse mattinate il sindaco di Calatabiano, Giuseppe Intelisano, ha incontrato in municipio una delegazione di operatori ecologici, arrivata insieme al responsabile del Dipartimento Igiene Ambientale della Funzione Pubblica, CGL, Alfio Leonardi, per discutere in merito al blocco degli stipendi ai dipendenti della Clean Up, dovuto all'irregolarità riscontrata nel documento unico di regolarità contributiva dell'azienda che ha in appalto il servizio rifiuti nel comune di Calatabiano. Una situazione che sta creando disagi di ordine igienico per i cittadini e ovviamente di ordine economico per i dipendenti che non stanno percependo lo stipendio. La Clean Up non può asserire che l'ente non abbia voluto o non può pagare gli stipendi perché di fatto noi avevamo fatto il bonifico ben due settimane fa, un giovedì, dove è stato fatto il bonifico, rigettato in quanto il circuito telematico che permette di pagare la fattura elettronica si blocca nel momento in cui c'è un debito con l'agenzia delle entrate e quindi non è in regola neanche col Durco. Sicché ieri ho parlato con il ragioniere Formica di Clean Up in presenza anche dei turbini per trovare un'opzione possibile che è quella di farci dare le buste paghe dalla Clean Up che non è obbligata a darci e magari immaginare di pagare noi direttamente i dipendenti di Clean Up. Vediamo se tutto ciò è percorribile. Noi abbiamo andato su indicazione della ragioniere Formica un PEC dove richiediamo le buste paghe, vediamo se ce le inviano, dopodiché noi possiamo immediatamente emanare bonifico e pagare le spettanze a chi opera nel servizio di raccolta. Voglio immaginare e sperare che se loro dovessero aggiudicare, perché ancora il verbale non è stato tutto chiuso, ma sembrerebbe che si siano aggiudicati alla gara per due anni, questo mi preoccupa perché se la situazione è questa ci potrebbe essere un verdurare di queste problematiche che certamente non può essere ben visto dall'amministrazione. Il responsabile Alfio Leonardi ha così commentato la situazione. Ci troviamo di fronte ad un paradosso. Nel nostro settore sono pochi i comuni in condizione di pagare regolarmente da quando la regione ha affidato tutta la gestione del comparto agli amministratori. Per una volta che un comune ha i soldi in cassa, è impensabile che un sistema così farraginoso impedisca di effettuare il pagamento, con pesanti ricadute sui lavoratori e di conseguenza sul corretto svolgimento del servizio. Mi auguro, ha concluso Leonardi, che si possa rivedere al più presto tale sistema.